Teorema Audio Service, oltre ad essere un'agenzia di spettacolo, è anche un divulgatore di riti e tradizioni popolari nel nostro Salento. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Madre addolorata e l'Aprenore. Grazie. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Madre addolorata e l'Aprenore. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Madre addolorata e l'Aprenore. Sale un'ampe, un'ompe, con rettolo ci va assi. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Madre addolorata e l'Aprenore. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Madre addolorata e l'Aprenore. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Madre addolorata e l'Aprenore. Quella cosa ha inclinato, quella terribile d'ore. Quella terribile d'ore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.